Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIP-Li, dove per un incidente avvenuto al km 14 sono possibili disagi tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna, in direzione Firenze. In A1, in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori tra Pian del Voglio e Rioveggio. Rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra il bivio con la variante di Valli con la Quercia e Badia, in direzione Roma. Siamo ancora sul versante Emiliano. Spostandoci in A12, uscita chiusa per lavori a Colle Salvetti, provenendo dal Livorno. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori è chiuso lo svincolo di Sinalunga, in entrata e in uscita, in direzione Siena. Muoversi in Toscana Info, è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!